fotoclub la chimera inaugurazione delle tele di piero tra l'altro vedo un po anche suddivise per argomenti intanto partiamo da questo titolo che ci piace tanto e sì perché io effettivamente mi sono domandato chi sono io ho detto sono piero e allora farò le tele di piero quindi potevo fare il tele di francesco insomma non è che io mi sono illuso di essere quell'altro piero insomma che poi si chiamava piero si chiamava piero quindi allora dopo lo scherzo ti facciamo tanti complimenti perché gli scatti sono veramente belli suggestivi ecco non c'è diciamo un come dire un tema che predomina no c'è solo quello di catturare dei momenti la cosa che secondo me balza di più agli occhi è che sono momenti assolutamente tutti naturali sì ecco io soprattutto amo la fotografia naturale perché secondo me la fotografia è stata inventata appunto per immortalare le immagini che l'occhio vede tutto ciò che dopo viene elaborato e viene fatto praticamente è diciamo una finzione quindi vabbè sempre bella perché sono si riescono a fare dei bei lavori belli però non sono più naturali non sono quelli che l'occhio vede insomma ecco ecco la fotografia è cambiata molto soprattutto negli strumenti insomma della fotografia però il modo di fotografare di cogliere quell'attimo insomma quello o ce l'hai secondo me o non ce l'hai tu capisci che io vengo dalla scuola del fotografo del re quindi gaburri e quindi ecco cioè voglio dire mi rimane sempre appiccicata addosso questa fotografia che era quella di una volta e quindi ecco e sono immagini fatte chiaramente con i sistemi moderni però ecco vogliono rappresentare la fotografia fatta con il vecchio rullino e quello è quello che a me mi dà proprio il massimo come si dice della guaduglia della suggestione che sicuramente suscitano queste queste immagini allora le tele di Piero rimarranno qui al fotoclub la chimera fino a quando fino all'11 di giugno quindi a domenica 11 di giugno e saranno aperto nei festivi e prefestivi 10 12 e 30 e 16 19 quindi festivi e prefestivi io sarò qua allora dopo l'edicolo di Piero le tele di Piero chissà che cos'altro ci potrà riservare questo signore chissà qualcos'altro ma sicuramente con il nome Piero sicuramente sicuramente non mai io ripeto mi chiamo Piero quindi devo fare le cose che piacciono a Piero perché soprattutto devo piacere a me poi dopo se piacciono anche agli altri bene bene grazie mille allora insomma questa bella inaugurazione qui al fotoclub con tanti amici anche con un piccolo rinfresco però insomma vi invitiamo a vedere questa mostra al fotoclub la chimera